Attenzione Porscherina in chioda Dove è ancora la porsche C'è scritto 900 Attenzione Mi sa che sto facendo un video A 75 miliardi di frame Ovviamente è una roba più fluida Guarda Porscherina Mamma mia è partito posteriore Leggermente La mittina che è Scommetti che adesso Appena Passato il casello non la vediamo più Buon gioco Tristezza E comunque l'abbiamo beccata Anche questa di Torre d'Isola È uscita a San Varese Ciao 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 Ciao